Benvenuti avventurieri del multiverso. Oggi vi guideremo nella creazione di una delle build più ardenti e devastanti di Dungeons & Dragons Quinte, il Mago del Fuoco. Che siate veterani di lunga data o nuovi giocatori pronti a tuffarvi nell'avventura, questa guida vi fornirà tutto ciò che vi serve per padroneggiare il potere delle fiamme e incenerire i vostri nemici. Utilizzando anche alcune regole fuori da manuale, partiremo dalla scelta della razza perfetta, ai migliori incantesimi e talenti, fino alle tattiche di combattimento più efficaci. Scoprirete come trasformare il vostro mago in una forza della natura. Prepariamoci ad accendere le fiamme della magia e a esplorare insieme ogni dettaglio di questa fantastica build. Pronti? Si parte! Razza. Genasi del Fuoco. Questa razza è perfetta per un mago del fuoco. Ottieni un aumento di più 2 alla tua destrezza e più 1 alla tua intelligenza, resistenza al danno da fuoco e la capacità di lanciare e creare fiamma come trucchetto. Classe. Mago. La scelta della classe mago è ovvia per un mago del fuoco per via dell'accesso ai potenti incantesimi di fuoco. Sottoclasse. Scuola di evocazione. Questa sottoclasse è ideale perché ti permette di massimizzare il danno degli incantesimi di fuoco senza colpire i tuoi alleati. Distribuzione dei punteggi di abilità. Intelligenza. 16. L'intelligenza è l'abilità primaria per un mago. Determina la classe di difficoltà per i tiri salvezza contro i tuoi incantesimi, la tua capacità di colpire con incantesimi di attacco e quanti incantesimi puoi preparare. Un punteggio di 16, più 3 modificatore, all'inizio ti fornisce una base solida per essere un incantatore efficace e per sfruttare al massimo i tuoi incantesimi di fuoco. Incremento dal genasi del fuoco, grazie al più 1 alla intelligenza, puoi partire da un 15 per raggiungere 16. Destrezza. 16. La destrezza è cruciale per migliorare la tua classe armatura, dato che i maghi generalmente indossano armature leggere o nessuna armatura. Inoltre, influisce sui tiri salvezza sui riflessi, utili per evitare effetti dannosi come trappole o incantesimi nemici. Una destrezza elevata può anche aiutare con l'iniziativa, permettendoti di agire prima in combattimento. Incremento dal genasi del fuoco, grazie al più 2 alla destrezza, un punteggio iniziale di 14 si trasforma in 16. Costituzione. 14. La costituzione determina i tuoi punti ferita e la tua capacità di mantenere la concentrazione sugli incantesimi quando subisci danni. Un mago con pochi punti ferita è vulnerabile, quindi un punteggio di 14, più 2 modificatore, ti fornisce una maggiore sopravvivenza, specialmente in situazioni di combattimento intensivo. Saggezza 10. La saggezza è importante per i tiri salvezza contro effetti che influenzano la mente, come incantesimi di sciarmo o paura. Tuttavia, per un mago del fuoco non è essenziale come intelligenza, destrezza o costituzione. Un punteggio di 10 è sufficiente per evitare penalità, mantenendo la tua mente lucida nelle situazioni critiche. Carisma 8. Il carisma è meno rilevante per un mago del fuoco, che si concentra più sull'efficacia degli incantesimi che sull'interazione sociale. Anche se un carisma alto può essere utile in alcune campagne per negoziare e influenzare, il focus principale del tuo personaggio è il dominio del fuoco. Un punteggio di 8, meno un modificatore, è accettabile per massimizzare altre abilità più cruciali. Forza 8. La forza è generalmente irrilevante per un mago, dato che non indossa armature pesanti né utilizza armi da mischia. Un punteggio di 8, meno un modificatore, è sufficiente, permettendoti di investire meglio nei punteggi di abilità più pertinenti alla tua classe. Questa distribuzione ti assicura di avere un mago del fuoco ben bilanciato, capace di infliggere ingenti danni con i suoi incantesimi di fuoco. Di sopravvivere alle sfide del combattimento e di mantenere la concentrazione anche in situazioni difficili. Competenze. Abilità. Arcana. Storia. Indagare. Intuizione. Talenti. Adepto elementale, questo talento è essenziale per un mago del fuoco. Ignori la resistenza al fuoco dei nemici e i tiri di danno 1 diventano 2. Mago da guerra, utile per mantenere la concentrazione sugli incantesimi. Ecco una selezione di incantesimi, adatti per la build del mago del fuoco in D&D. Trucchetti. Dardo di fuoco. Descrizione. Lanci un dardo di fuoco contro una creatura o un oggetto a portata. Un attacco a distanza che infligge danni da fuoco. Fiamma prodotta. Descrizione. Una fiamma appare nella tua mano. Puoi usarla per illuminare o come arma da lancio. Mano magica. Descrizione. Crei una mano spettrale che può manipolare oggetti a distanza. Presti digitazione. Descrizione. Piccole magie che possono creare effetti temporanei, pulire o sporcare oggetti, accendere o spegnere fuochi, e altro. Incantesimi di primo livello. Mani brucianti. Descrizione. Emana un cono di fuoco dalle mani, infliggendo danni da fuoco a tutte le creature nel raggio. Scudo. Descrizione. Un'energia magica ti protegge, aumentando temporaneamente la tua classe armatura e proteggendoti da attacchi magici. Armatura magica. Descrizione. Protegge il destinatario con un'armatura magica invisibile che migliora la sua classe armatura. Individuazione del magico. Descrizione. Percepisci la presenza di magia entro un raggio di 30 piedi. Incantesimi di secondo livello. Raggi roventi. Descrizione. Lanci tre raggi di fuoco, ognuno dei quali può colpire un bersaglio diverso. Immagine speculare. Descrizione. Crea duplicati illusori di te stesso che possono distrarre gli attaccanti. Incantesimi di terzo livello. Palla di fuoco. Descrizione. Lanci una sfera di fuoco che esplode, infliggendo danni da fuoco a tutte le creature in un'area di 20 piedi di raggio. Contro incantesimo. Descrizione. Interrompi un incantesimo lanciato da un'altra creatura, annullando negli effetti se il livello dell'incantesimo è pari o inferiore al tuo slot di incantesimo utilizzato. Incantesimi di quarto livello. Muro di fuoco. Descrizione. Crea un muro di fuoco che infligge danni a tutte le creature che lo attraversano o si trovano nelle sue vicinanze. Immolazione. Descrizione. Avvolgi una creatura nelle fiamme magiche, infliggendo danni da fuoco continuativi fino alla sua estinzione o alla morte della creatura. Incantesimi di livello superiore. Cono di freddo. Descrizione. Lanci un cono di energia ghiacciata che infligge danni da freddo. Sebbene non sia un incantesimo di fuoco, può essere utile per avere un'opzione di danno diversa. Inversione del fuoco. Descrizione. Circondi il tuo corpo di fiamme che ti proteggono dai danni da fuoco e ti permettono di infliggere danni da fuoco a chi ti attacca in mischia. Conclusione. Questi incantesimi ti forniscono una vasta gamma di opzioni offensive e difensive, permettendoti di sfruttare al meglio il potere del fuoco. La scelta di questi incantesimi ti permette di infliggere enormi quantità di danni, proteggerti dagli attacchi e avere utilità nelle situazioni non di combattimento. Sfrutta al massimo la tua resistenza al fuoco per affrontare nemici con attacchi basati sul fuoco. Cerca sempre di posizionarti in modo da non colpire i tuoi alleati con i tuoi incantesimi di danno ad aria. Gestisci saggiamente i tuoi slot incantesimo, mantenendo alcuni incantesimi difensivi pronti per situazioni di emergenza. Grazie per averci seguito in questa guida alla creazione del mago del fuoco perfetto in D e di quinta edizione. Speriamo che queste informazioni vi aiutino a incenerire i vostri nemici e a dominare il campo di battaglia con le vostre potenti fiamme. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime guide. Che le fiamme della magia siano sempre con voi. A presto avventurieri!